Il Martino non vince, nemmeno il team Altamura, il Nardò addirittura perde ed è così che lo 0-0 interno per la formazione della Valle d'Itria contro la Palmese acquisisce un valore maggiore anche se mette fine alla serie di tre vittorie consecutive ancora di più. Considerando lo spessore dell'avversario al Tursi, i campani lottano per la salvezza, è vero, ma nel girone di ritorno hanno collezionato più punti di tutti. Sicuramente è un punto accettabile, c'è il rammarico perché volevamo i tre punti, volevamo regalare una gioia in casa ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, però come hai detto tu abbiamo trovato di fronte una squadra che ha chiuso tutte le nostre azioni offensive, una squadra forte che nel girone di ritorno ha fatto più punti di tutti, però noi abbiamo fatto un'ottima partita. Enrico Siletti, oltre ad essere un pupillo di Massimo Pizzulli, sa come si vince questo girone, lo ha fatto quando indossava la maglia del Cerignola. La scorsa estate, dopo l'esperienza a Bitonto, ha deciso di lottare per l'alta classifica sposando il progetto del Martina, ora secondo in graduatoria senza inquilini a meno tre dalla capolista Altamura. Al momento la mia scelta stava avendo ragione perché sono veramente soddisfatto di quello che ho trovato e soprattutto di quello che stiamo facendo. Ho trovato una società ambiziosa, un mister con cui stiamo lavorando molto bene e penso che i risultati ci stanno dando ragione, stanno dando ragione a noi, gruppo squadra, ma soprattutto a una società che è partita in sordina, tra virgolette, ma comunque sta dimostrando negli anni di saper lavorare molto bene e penso che i risultati degli ultimi 3-4 anni sono alla luce di tutti. La prossima, inutile nasconderlo, può essere una domenica fondamentale negli equilibri di testa. Il Martina va a Casarano, la capolista Team Altamura fa visita alla terza forza del girone, il Nardò. Decisiva sicuramente no, anche perché mancano 11 partite, sono 33 punti, manca veramente tanto. Penso che il girone, il campionato dello scorso anno ne può essere una testimonianza. Sicuramente è una sfida importante perché il Casarano sta provando a rientrare e quindi sarà importante per noi cercare di fermarli, ma soprattutto per noi continuare questa striscia di risultati positivi che stiamo facendo che ci può permettere di stare lì incollati all'altamuro. Dovrà andare a Nardò, una gara difficilissima. Penso che entrambe le partite non saranno decisive, ma comunque sarà un bello step da superare per queste quattro squadre.